Al via da domani la prenotazione per il vaccino anti-covid-19 per le seguenti categorie sanitarie. Come per gli ultraottantenni, attraverso il portale web vaccino-covid.regione.umbria.it slash cup slash e presso le farmacie potranno aderire alla campagna vaccinale farmacisti, collaboratori sanitari dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, medici IMSS e INAIL, medici e odontoiatri scritti all'ordine, igienisti dentali e assistenti alla poltrona, ma anche operatori sanitari e sociosanitari delle strutture residenziali e delle ditte esternalizzate che lavorano all'interno dei presidi ospedalieri e delle strutture residenziali. Volontari sanitari e sociosanitari che operano stabilmente all'interno dei presidi ospedalieri continuano le prenotazioni per i soggetti non ancora reclutati delle seguenti categorie personale sanitario e sociosanitario delle strutture pubbliche, compreso il personale universitario operante negli ospedali e delle strutture ospedaliere private accreditate e convenzionate, specializzanti che effettuano il loro percorso formativo all'interno dei presidi ospedalieri, operatori sanitari e sociosanitario delle strutture residenziali per anziani, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e specialisti convenzionati, personale e volontari delle aziende del sistema di emergenza territoriale e nei trasporti sanitari. Per quanto riguarda gli studenti delle professioni sanitarie che effettuano il tirocinio nelle strutture sanitarie già inseriti tra le categorie prioritarie nel piano vaccinale regionale, sono stati definiti gli ultimi dettagli con il direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia e le loro prenotazioni saranno aperte dalla prossima settimana.